idea del comunismo idea del comunismo nella pornografia l'utopia di una società senza classi si presenta attraverso l'esagerazione caricaturale dei tratti che le distinguono e la loro trasfigurazione nel rapporto sessuale da nessun'altra parte nemmeno nelle mascherate carnevalesche è dato trovare un'altrettanto caparbia insistenza sui segni di classe nel vestiario nel momento stesso in cui la situazione li trasgredisce e vanifica nel modo più incongru le creste e gli zinali delle cameriere la tuta dell'operaio i guanti bianchi i galloni del maggiordomo di recente perfino i camici e le mascherine delle infermiere celebrano la loro apoteosi nell'istante in cui passando come strani amuletti sui corpi nudi inestricabilmente confusi sembrano annunciare come uno squillo acutissimo di tromba quell'ultimissimo giorno in cui dovranno apparire come single di una comunità ancora impresa agita qualcosa di simile si incontra soltanto nel mondo antico nelle raffigurazioni dei rapporti amorosi fra dei e uomini che costituiscono per l'arte classica al suo tramonto una fonte inesauribile di ispirazione e l'unione sessuale col dio il mortale vinto e felice cancella ad un tratto l'infinita distanza che lo separa dai celesti ma nello stesso tempo questa distanza si riproduceva rovesciata nella metamorfosi animale della divinità il candido muso del toro che trascina europa il becco arguto del cigno sospeso sul volto di leda sono la cifra di una promiscuità così intima ed eroica da riuscire ancora per poco insopportabile se cerchiamo il contenuto di verità della pornografia immediatamente essa ci mette davanti agli occhi la sua ingenua stuccosa pretesa di felicità carattere essenziale di questa è di essere esigibile in ogni momento e in ogni occasione qualunque sia la situazione di partenza dovrà immancabilmente finire in un rapporto sessuale un film pornografico in cui per un contrattempo questo non avvenisse sarebbe forse un capolavoro ma non sarebbe un film pornografico lo striptease è in questo senso il modello di ogni intreccio pornografico all'inizio ci sono sempre soltanto delle persone vestite in una certa situazione e l'unico spazio lasciato all'imprevisto riguarda il modo in cui alla fine esse dovranno ritrovarsi insieme spogliate la pornografia recupera qui il gesto severo della grande letteratura classica non deve esserci spazio per la sorpresa e il talento consiste in impercettibili variazioni su un medesimo tema mitico ed ecco insieme svelato il secondo carattere essenziale della pornografia la felicità che essa esibisce è sempre aneddotica è sempre storia e occasione afferrata mai condizione naturale mai qualcosa di già dato il naturismo che semplicemente rimuove le vesti è da sempre il più accanito avversario della pornografia e come un film pornografico senza evento sessuale non avrebbe senso altrettanto poco potrebbe essere definita pornografica la semplice immobile esposizione della sessualità naturale dell'uomo mostrare il potenziale di felicità presente in ogni minima situazione quotidiana e ovunque vi sia una socialità umana questa è l'eterna ragione politica della pornografia ma il suo contenuto di verità che la pone agli antipodi dei corpi nudi che affollano l'arte monumentale fine secolo è che essa non solleva il quotidiano nel cielo eterno del piacere ma esibisce piuttosto l'irrimediabile carattere episodico di ogni piacere l'intima disgressività di ogni universale per questo sono nella rappresentazione del piacere femminile che si segna unicamente in un volto essa esaudisce la sua intenzione che cosa direbbero i personaggi del film pornografico che stiamo osservando se potessero a loro volta essere spettatori della nostra vita i nostri sogni non possono vederci è questa la tragedia dell'utopia lo scambio fra personaggio e lettore buona regola di ogni lettura dovrebbe funzionare anche qui solo che importante non è tanto che noi impariamo a vivere i nostri sogni quanto che essi imparino a leggere la nostra vita apparirà allora che il mondo possiede da lunghissimo tempo il sogno di una cosa di cui esso deve solo possedere la coscienza per possederla veramente certamente ma come si possiedono i sogni dove sono custoditi qui non si tratta naturalmente di realizzare qualcosa nulla è più noioso di un uomo che abbia realizzato i propri sogni è l'insulsa buona lena socialdemocratica della pornografia ma nemmeno si tratta di custodire intangibili in camere di alabastro coronati di gelsomini e di rose ideali che diventando cose si sfracellerebbero è il segreto cinismo del sognatore batlain diceva quel che abbiamo sognato lo abbiamo già avuto tanto tempo fa che nemmeno ce ne ricordiamo non in un passato quindi non ne possediamo i registri piuttosto i sogni e i desideri inadempiuti dell'umanità sono le membre pazienti della resurrezione sempre in atto di risvegliarsi nell'ultimo giorno e non dormono chiusi in preziosi mausolei ma stanno confitti come astri viventi nel cielo remotissimo del linguaggio di cui appena decifriamo le costellazioni e questo almeno non l'abbiamo sognato saper afferrare le stelle che come lacrime cadono dal firmamento ma il sognato dell'umanità è il compito del comunismo